ciao caro spirito eterno quanti sono i misteri ci sono delle persone che scrivono libri sui misteri sui fantasmi sull'aldilà brindiamola al di là sugli angeli sugli alzaterre mistero mistero ma c'è un mistero e è incomprensibile mistero ma perché incomprensibile perché ne parlano in tanti non senti mai qualcuno dice io voglio la guerra andiamo in guerra infatti una volta uno mi ha chiamato a giorgio tu sei un guerriero di luce no no la parola guerriero no no non me la proiettare io sono spirito eterno spirito libero non voglio essere guerriero di niente il mistero della pace è che i latini i romani in latino se vuoi se vi spacciam parabello se vuoi la pace preparati alla guerra insomma ma la pace perché è un mistero la pace ma perché deve essere un mistero perché non c'è pace nella mente pace mentale noi siamo qui in questo insieme chiamato testa cervello manda onde vibrazioni la pace mentale è quando le vibrazioni sono buone forti calme vitale dove c'è rabbia rancore disperazione frustrazione eccetera 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 allora lì c'è violenza non c'è pace allora vuoi risolvere tu il mistero della pace genera in te cioè raggiungi e mantieni la pace mentale non far l'errore di chi ti dice vogliamo la pace oggi ti dice un nome geografico no tu di io ho raggiunto la pace mentale io voglio la pace mentale io mantengo la pace mentale io irradio intorno a me pace vibrazioni di pace di non violenza perché il maatma gandhi era diventato molto conosciuto molto famoso anche fuori dall'india perché parlava della non violenza non violenza sull'ambiente gli alberi natura la creazione non violenza sugli animali e non violenza verso gli altri esseri violenti per cui riuscì a liberare l'india dal dominio inglese con la non violenza chiaro che gli inglesi non è che sono sono andati due giorni dopo che lui ha dichiarato la non violenza collettiva di un intero popolo hanno ammassato incarcerato picchiato ma hanno trovato una resistenza forte un'energia potente prova a fare la stessa cosa prova a diventare tu la pace che vorresti che fosse in un'altra parte del mondo o in una zona vicina diciamo dopo la guerra hanno firmato un trattato di pace ma la pace non è un trattato è uno stile di vita tu puoi essere in pace se il tuo stile di vita è pacifico se c'è amore amicizia compassione generosità quindi non pensare alla pace in un'altra parte del mondo dove tu non sei pensa alla parte del mondo dove sei tu ci vuole pace nella tua mente pace nella tua abitazione pace nel tuo condominio nel quartiere dove stai irradia pace manda vibrazioni di pace lascia andare ogni negatività fai questa meditazione ripeti con me lascio andare ogni negatività voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente io voglio la pace mentale io merito la pace mentale io scelgo la pace mentale io sono in pace mentale io vivo in pace mentale mando amore e buonagia a tutti gli esseri viventi quindi la pace non è un mistero non è che io devo definirmi pacifista devo devo voglio definirmi un essere vivente in pace con se stesso e con gli altri esseri viventi va bene fare le manifestazioni per la pace ma non che per andare a fare una manifestazione con la pace poi mangi un panino con un animale morto tutto deve essere pace alimentazione pace alimentazione pace parole pace relazioni pace sessualità pace dormire in pace lavorare in pace ma non in pace che suona tipo il morto riposa in pace dicono al morto riposa in pace no noi dobbiamo creare ambienti zone campi energetici di pace per chi è incarnato per chi è in un corpo la pace eterna non può essere solo dove ci sono i cadaveri al cimitero non bisogna augurare la pace eterna riposa in pace solo a chi è morto creiamo campi energetici di pace di amore per chi è presente adesso sul pianeta terra grazie perché tu farei la tua parte ti ringrazio al nome mio e anche al nome degli altri che saranno beneficiati dalle tue vibrazioni di pace grazie a tutti grazie a tutti